Gianluca Pini, perché ha proposto il blocco navale? Perché è l'unica soluzione fattibile in termini di intervento militare, non di guerra né con avanzate di terra, per fermare quelli che sono gli sbarchi. Sbarchi attraverso i quali l'Isis ha già dichiarato voler infiltrare ulteriori terroristi in Europa, perché già alcuni sappiamo già essere arrivati. E sarebbe anche lo strumento maestro per cercare di coinvolgere effettivamente una coalizione molto ampia, visto che sarebbero necessarie numerose imbarcazioni militari, magari coinvolgendo anche la Russia in questo scenario qui. Lei ha detto che poi bisogna fare i campi profughi in Tunisia, perché? Perché comunque sappiamo che ci sono 200.000 persone che premono sui confini della Libia e cercano come via di fuga la via del Mediterraneo verso l'Italia, verso la Sicilia. È chiaro che noi, contrariamente a quello che fa il PD, che considera queste persone solo ed esclusivamente dei numeri, per ingrassare le cooperative o la Caritas, sappiamo che sono 200.000 persone. Quindi se noi mettiamo il blocco navale è chiaro che dobbiamo dare una valvola di sfogo. L'unica valvola di sfogo, visto che in Libia c'è la guerra, perché è arrivato l'Isis, che chi ne dica che gentiloni, è chiaro che bisogna spostarle nel territorio più contiguo, dove c'è una situazione di salvaguardia per la loro vita. L'unica strada, così come è avvenuto in tante altre situazioni e scenari di guerra, è appunto quello di istituire dei campi più profughi sotto l'esida dell'ONU. Mi auguro che questa sia una soluzione che venga portata dall'Italia, e questo abbiamo chiesto noi oggi in Aura, venga portata dall'Italia sul tavolo del Consiglio di Sicurezza.